Premio Ilaria Alpi 2012 alla carriera per Nuccio Fava, ricordiamolo, giornalista Rai, due volte direttore del Tg1, poi direttore del Tg3, a microfoni spenti, qui accanto a me mi diceva un premio imprevisto e anche comunque impegnativo. Beh, straordinariamente impegnativo perché appunto Ilaria Alpi ci ha comunque testimoniato nel modo più alto che il nostro mestiere è un'attività professionale per la quale si può anche morire e non credo ci sia testimonianza più alta. Naturalmente questa è un'occasione per parlare di giornalismo, giornalismo di oggi e giornalismo di ieri. Ecco, com'è cambiato in tutti questi anni? Qual è il suo giudizio? Beh, è cambiato perché è cambiata complessivamente la società e quindi anche il racconto che si fa della nostra società. Si potrebbe molto discutere se il giornalismo è cambiato in meglio o in peggio. Sicuramente c'è un approccio secondo me meno riflessivo ai grandi fatti della vita italiana e anche del contesto internazionale che tra l'altro soprattutto in televisione è molto trascurato, è un po' un giornalismo a intermittenza che si comporta così anche sulle vicende italiane per cui si passa dall'eccitamento per Grillo e le 5 Stelle al fatto che Berlusconi annuncia la sua seconda discesa in campo o meno, al fatto che Renzi, il sindaco di Firenze, si candiderà comunque alle primarie ma insomma è scarso lo sforzo per cercare di capire che cosa matura nella società italiana e soprattutto il dato di fondo che cioè siamo dinanzi a una situazione in cui più del 50% degli italiani è disaffezionato, usiamo questa espressione quando la usiamo e beh c'è un distacco tra politica, ne parla napolitano fortunatamente ogni tanto, tra politica e partiti, tra politica e istituzioni che è davvero preoccupante e un sistema della comunicazione senza invadere nessun campo ma facendo anzi il proprio mestiere, il proprio campo dovrebbe in qualche modo approfondire. La televisione comunque rimane sempre il media tradizionale ovvero quello più seguito soprattutto da una certa fascia della popolazione cosa ne pensa dell'avvento delle nuove tecnologie come internet? Sempre più credo che le tecnologie si collegheranno e contribuiranno a modificare anche il panorama e l'uso delle televisioni chiamiamole tradizionali e questo anche a livello locale per la verità ed è molto interessante ma il problema di fondo è che le nuove tecnologie rischiano anche di assecondare un dato se non negativo almeno problematico della comunicazione televisiva attuale e che è quella di essere sempre più un'espressione un po' forte alle prese con una sorta di orgasmo comunicativo per cui devi sempre stare lì a dire l'ultima cosa, l'ultima novità, l'ultima urgenza e poi perdi il contesto, perdi il quadro. Quali sono i telegiornali che lei guarda, che segue? Io seguo, devo dire, prevalentemente in modo molto critico sia Rai News 24 che Mentana ma dico in modo molto critico perché non apprezzo già il cappello iniziale che fanno entrambi con questa area un po' da santoni che ci spiegano che cosa è più importante perché deve, come andranno avanti e così via. E poi una comunicazione sempre un po' aggressiva, prevale un tono aggressivo, un tono di non c'è mai una notizia pacata, non c'è mai una notizia che invita la riflessione e non all'eccitamento e però sono quelli che hanno più materiali, sia pure con queste forme per me discutibili, dei notiziari italiani sono per me i meno peggio, se non i migliori. Senta, per concludere, un giovane che oggi volesse intraprendere questa professione, i suoi consigli? Ma io ho cinque figli e nessuno grazie a Dio fa il giornalista, quindi sarei un pessimo testimone, ma ci deve credere, ci deve credere ed avere una forte motivazione ed una forte capacità di sacrificio in direzione di un impegno di formazione culturale soprattutto storica. E però è dura, è terribilmente dura, ma se uno è motivato e soprattutto è disposto, che poi è la cosa più difficile, a stare con la schiena dritta, come diceva Pertini e come ci raccomandava il Presidente Pertini, rimane sempre il mestiere più bello del mondo.